Malo, una donna di 68 anni è stata investita da una moto mentre attraversava la strada sulle strisce nei pressi di via Giovanni XXIII. L'ambulanza del SUEM l'ha trasportata in gravi condizioni prima a Sant'Orso, poi all'ospedale di Vicenza. I carabinieri di Malo hanno eseguito i rilievi. Sossano, infortuni in azienda. Una donna stava tinteggiando il capannone di una ditta in via Seccalegno quando è caduta da 7 metri di altezza. Era lavoro su un'impalcatura mobile nella zona artigianale del paese collinare. Soccorsa dal personale del 118, la donna avrebbe riportato la frattura del bacino. Posina cade durante un'escursione sul sentiero degli Scarubbi e resta immobilizzata a causa di un forte trauma al bacino. Allertato il soccorso alpino di Arsiero. È successo una 74enne padovana che giovedì pomeriggio stava scendendo con il marito a piedi verso Malga Campiglia. La donna è stata imbarellata dai soccorritori che l'hanno portata per una ventina di minuti di cammino fino alla strada dove l'hanno affidata all'ambulanza diretta all'ospedale di Sant'Orso.